Prossimo brano, un brano che riconoscerete dopo pochissime note, se vi dico il nome dell'autore, Jerry Gray, forse a molti di noi finora diceva molto poco, è uno dei più grandi jazzisti degli anni 30-40 americani, leader di grandi big band, ha suonato con tutti i più grandi, Art Show, Duke Ellington, fino al grande, grandissimo, Glenn Miller. Questo è String of Pairs, suona ancora Ponte d'Era, big band. String of Pairs 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 String of Pairs